Eurobasket 2017 Eurobasket 2017, Ungheria con onore, ma la Serbia passa agevolmente . 86-78. Come dà previsione, la Serbia supera l'Ungheria nella prima gara ed eliminazione diretta di Eurobasket 2017. Partita più ostica del previsto per i serbi, a cui è necessaria l'accelerazione nel terzo quarto, chiuso 21-12, con lo sprint difensivo, per chiudere la contesa. . Brillante il solito Bogdanovic, 17 punti e 6 assist, sorpresa Kuzmi con una doppia doppia da 17 punti e 10 rimbalzi in 20 minuti. . Nell'Ungheria si nota Pearl, top scorer assoluto con 22 punti, insieme ai 15,4-6 dall'arco, di Ferenc. Ora, per la nazionale di Giorgiovic, c'è l'Italia. . È subito sfida di triple in apertura tra Allen e Lucic, prima che Giorgiovic e Kuzmi, brillantissimo con un gioco da tre punti ed una schiacciata ispirata da Bogdanovic, trovino il primo a lungo della partita. . 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 In transizione su palla rubata. Inevitabile, dunque, il team EUT di catechizzazione per Igovic. . Un collasso difensivo costa carissimo agli uomini di Igovic, Jovic fallisce libero per il gioco da tre punti dopo aver battuto lo stesso Ferenc, ma il rimbalzo è ancora serbo e Kuzmik lo trasforma in una schiacciata. . 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